Se vi rimane del pane del giorno prima a casa potete tagliarlo a fette, sistemarlo nel cestello della friggitrice ad aria o altrimenti in una classica teglia ed infornare al classico forno e condire la passata di pomodoro con sale, pepe, olio e origano, condire le fette di pane e infornare per 10 minuti. Trascorsi i primi 5 minuti mettiamo la mozzarella a dadini, ben sgocciolata mi raccomando, poi mettiamo anche un po' di origano siciliano sulla superficie che gli dà un ottimo gusto e sapore e quindi inforniamo ancora per altri 5 minuti. Questo è il risultato finale, vi faccio vedere, sono veramente pratici, buonissimi ed economici, un risultato ottimo. Mettiamo alla fine ovviamente un po' di olio buono sulla superficie ed eccoli pronti da gustare.